ciao a tutti ragazzi ben ritrovati bentornati se la prima volta benvenuti nel canale di milan inside oggi ragazzi analisi più pargelle di milan roma 3 a 1 grande grande vittoria ragazzi prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina in descrizione tutti i link dei profili social di milan inside il mio personale di instagram e il sito ufficiale www.acmilaninsight.com dove vengono riportate continuamente notizie tutti gli iter pre post partita editoriali e chi più ne ha più ne metta allora ragazzi milan roma 3 a 1 una partita che era si presentava molto dura molto tosta molto difficile così come ho detto nel video pre partita per certi aspetti questa premessa è stata un attimino per così dire non mantenuta nel senso che in milan ha affrontato una partita che la roma ha tentato di rendere difficile ma per una tempistica relativamente minima nel senso che milan ha controllato dall'inizio alla fine ha vinto meritatamente a parte i minuti a cavallo dell'intervallo e quindi prima con i godi abraham e subito dopo alla ricerca del pareggio a parte quei minuti lì non ha dato l'impressione che potesse effettivamente portare via punti da sanzire detto questo sono stati fondamentali degli interventi di megnon è stata fondamentale la prestazione generale generale ottima di tutta la squadra altrimenti la partita di ieri non si vinceva è arrivata se vinto ripeto meritatamente si comincia l'anno in maniera ottima e per il risultato e per la prestazione andiamo di seguito con le pagelle partendo da magic mike iron mike megnon voto 8 8 perché 8 perché le parate sono state sia difficili da compiere va bene ma soprattutto importanti per il momento della partita in cui sono arrivati per dire quella su mkhitaryan è fondamentale perché altrimenti la roma pareggia quella su abraham il primo tempo è vero che dal calcio d'angolo successivo arriva il gol però comunque resta un intervento con dei riflessi un colpo di reni pazzesco e anche quello all'inizio su zagnolo non è da sottovalutare è vero che zagnolo poteva tirare prima essendo da chiudere però resta un intervento che in un certo senso non permette alla roma di ricominciare di cominciare la rimonta prima tempisticamente parlando quindi voto 8 per megnon florenzi voto 6 e mezzo è una bella conferma sono molto contento per alessandro perché a parte la partita emotivamente e sentimentalmente dura da affrontare per lui però ha fornito una prestazione precisa puntuale sia in fase offensiva che difensiva sono contento perché si vedeva che all'inizio dell'anno non era lui con un florenzi così calabria può recuperare con relativa calma e quando tornerà alessandro comunque risulterà utile in altre maniere perché un giocatore così è fondamentale all'interno di una rosa calulu voto 6 e mezzo per lui rispetto a gabbia compie meno errori nel primo tempo per un intervento non scomposto però anche un po' sfortunato dove lui si anticipa abramo però il pallone gli rimane sotto dai all'azione di cui parlavo prima quella di zagnolo per il resto abramo comunque un attaccante difficile da marcare perché fisicamente è più importante rispetto a calulu però lui diciamo compensa le mancanze fisiche con quelle atletiche funamboliche nel senso è più rapido e spesso lo anticipa passiamo a gabbia gabbia voto 6 che è la media tra il 5 e mezzo del primo tempo e 6 e mezzo del secondo non peraltro perché nel primo tempo zagnolo lo salta due o tre volte con la stessa finta creando anche mezze occasioni che potevano diventare pericolose in un caso a chiuso tonale in un altro caso c'è stata l'occasione di di abraham mentre poi nel secondo molto meglio non sbaglia praticamente più niente quindi facendo questa media esce questo 6 ma gli avrei voluto dare anche di più diamogli un 6 più di incoraggiamento a Matteo Teo voto 7 7 senza considerare il lato caratteriale se si considera il lato caratteriale dovremmo scendere a 6 e mezzo purtroppo ad oggi rimane il suo più grande difetto il carattere perché non è solito a atteggiamenti sbagliati mettiamola così in campo però noi rimaniamo agli aspetti tecnici più tecnicamente idonei ecco mettiamola così e relativamente alla prestazione 7 perché Carsdop dalla sua parte non sfonda mai così come pure Zagnolo perché in fase offensiva è sempre puntuale perché provoca l'espulsione di Carsdop probabilmente aiutato anche dalla fascia di capitano che gli ha dato quel quid in più dal punto di vista motivazionale Krunic voto 6 gli avrei dato 6 e mezzo se non avesse sul gruppone l'aver tenuto in gioco Abraham sul gol dell'1-2 della Roma la sua duttilità è fondamentale all'interno di una rosa perché permette di occupare spazi lasciati vuoti per indisponibilità, per squalifiche, per necessità la sua fisicità lo aiuta in quella posizione in coppia con Tonali che è un po' più tecnico e meno fisico ci sarebbe anche un episodio su di lui però non è stato considerato Tandere rimane là voto 6 per Krunic prestazione comunque sufficiente Tonali non ha fatto bene Tonali ieri voto 8 8 per Sandrino ieri una partita eccezionale non ha sbagliato niente tempi di uscita recupero palla rilancio dell'azione non ha sbagliato niente per annullare un giocatore come Pellegrini che è forte ci voleva un Tonali a toppe tale è stato voto 8 per Tonali Messias voto 7 e mezzo 7 e mezzo perché da quella parte Vigne e Bagnitz non lo prendono mai sia che vada sul sinistro sia che vada sul destro sia che finti sia che scarichi non lo prendono mai poi c'è la ciliegina del gol che non è facile non è facile perché un pallone che ti viene incontro andare a pescare l'angolino di prima senza stopparla con gli avversari che ti vengono addosso perché il portiere in porta non c'era 7 e mezzo 7 e mezzo ragazzi Diaz voto 6 6 come prestazione sembrava quasi essere sulla falsa riga delle altre però a differenza delle altre non buone di fine 2021 però mentre lì era anche proprio assente fisicamente in campo ieri invece c'è stato ha sfiorato un gol con un bellissimo tiro quasi a sconfessare ciò che ho sempre detto nel senso che lui non ha un tiro potentissima da fuori dall'aria ieri mi stava smendendo contento di essere smendito quando diciamo sottolineo qualche criticità però è stato ripeto molto più presente per quanto abbia sbagliato anche un gol dove doveva tirare di prima e sono contento e convinto che stia recuperando per bene Sele Makers voto 6 più senza infame senza lode però in partiti importanti non si può dire senza lode nel senso comunque importante comunque tiene Mancini costantemente impegnato si congiunge bene con Te o viene spesso a giocare in mezzo a campo non è funambolico come altre volte ma gli avversari sono anche diversi però non demerita e quindi la sua pagnotta di pane l'ha portata a casa Giroud 7 e mezzo anche per lui è per il gol è per l'aver creato il secondo gol è perché a differenza di tante altre partite ieri le sponte le ha fatte bene ha tenuto bene palla non ha perso palloni inutili o banali molto meglio rispetto ad altre volte per quanto riguarda i sostituti Conti 6 diciamo che la sua entrata in campo era spaventava molti tifosi però è anche vero che contestualmente è arrivata anche l'espressione di Karlsdorp che ha facilitato la partita quindi non ha sofferto più di tanto ha fatto il suo diligentemente e quindi 6 per Conti 6 e mezzo per Bacaioco sono contento perché abbiamo rivisto quell'arte polipesca ecco con i tentacoli che tanto avevamo apprezzato nella scorsa esperienza ha recuperato un'infinità di palloni ne ha sbagliato solo uno all'inizio che quasi aveva fatto fare la croce a tutti i tifosi però poi da lì non ha sbagliato più niente ha recuperato veramente tanti tanti palloni anche pulito nel girare palla Maldini senza voto Leao Leao voto 7 entra con un unico obiettivo spaccare e chiudere la partita e ci riesce ampiamente gol e rigore procurato nient'altro da dire un compito aveva l'ha fatto ampiamente Ibra voto 6 che è la media tra l'assist che è da 7 con il pet è vero che è un po' smorzato da Smalling ma l'idea è di un campione e il 5 del rigore sbagliato Ibra per favore non ne tirare più voto al mister invece mister Piulli voto 7 perché se è vero che in difesa le scelte sono obbligate e quindi non è che ci sia chissà quale merito azzecca i cambi perché avrebbe potuto per esempio essere diciamo stuzzicato da Rebici che magari era un attimino più pronto rispetto al Leao però non aveva le stesse caratteristiche e non riusciva a chiudere la partita nella stessa modalità in cui l'ha fatto Leao perché comunque la sua qualità di tenere il gruppo unito nelle difficoltà è veramente qualcosa di impressionante quindi voto 7 per il mister quindi al netto di tutto ciò peggiore in campo se vogliamo mettere un io ritengo che quando non c'è un'insufficienza un peggiore non c'è se vogliamo dire un po' meno meglio ecco mettiamo Ibra mettiamo Diaz per insomma andare a trovare il pelone uomo migliore in campo è difficile tra Mignon e Tonali 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 migliori in campo questo è quando ragazzi io vi ringrazio appuntamento a più tardi con altri video tratteremo un po' di mercato ci sarà un video un po' ecco per così dire non so se avete sentito nell'intervista nel post partita le interviste l'intervista di Murino ha detto una cosa della quale vorrei parlare vi do l'appuntamento al video dopo grazie ragazzi ricordatevi il video iscrivetevi campanellina tutti i profili social il sito quanto è bello Mila Insight ciao ragazzi grazie